La regione della Catalogna vota per elezioni amministrative domenica, il cui esito potrebbe avere un peso nella politica nazionale spagnola. Più di 5,7 milioni di eventi diritto sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale con sede a Barcellona. A metà giornata l'affluenza era già superiore al voto del 2021. Il voto è un test per la tenuta del governo di Pedro Sanchez dopo la recente minaccia di dimissioni. La sua maggioranza politica è stata possibile grazie anche ai partiti nazionalisti catalani e baschi. Ma è importante anche per verificare il consenso del movimento separatista. Sette anni fa sotto la presidenza di Carles Puigmont che tra i candidati in lista, nonostante l'esilio, la Catalogna tentava la secessione, poi fallita. I sondaggi mostrano che da allora il sostegno all'indipendenza rispetto all'attuale autonomia si è ridotto.